allora parlavamo delle competenze necessarie per la cura per questa cura concepita a modo bipolare no questo mi sembrava un concetto che basta abbastanza non so specifico la prima teorizzazione che non è stata mai abbandonata se mai è stata arricchita da tutti gli apporti che via via trovavamo sulla nostra strada puntava alla formazione sul campo non avevamo modelli per la nostra nuova professionalità e nemmeno agenzie formative adatte al nostro progetto quindi si rifletteva sulla pratica si disputevano i casi funzionamento delle attività si rifletteva su ciò che accadeva per comprendere nel senso inoltre c'è sempre stata un'attenzione all'organizzazione del servizio nella consapevolezza che ogni sua articolazione ogni suo angolo dalla sala d'aspetto alla segreteria alla stanza di terapia dovesse avere una valenza di cura un'apertura ad accogliere a interpretare ciò che il paziente vi depositava il servizio come si diceva allora doveva essere psicoterapeuticamente orientato in un secondo tempo la cosiddetta formazione sul campo ha trovato uno strumento fondamentale nell'osservazione diretta quella che è nata la tavistoc come osservazione madre bambino allo scopo di studiare lo sviluppo e parallelamente di validare la teoria psicoanalitica su di esso è stata applicata a foligno da brutti e scotti nelle scuole di infanzia per la formazione degli operatori e ne è nato un libro il bambino non visto nel 75 e poi questa stessa osservazione è stata preziosa per le strutture intermedie quelle di seconda generazione in particolare al cad c'è stata una vera e propria campagna di osservazione che ha portato un notevole aiuto alla comprensione dei pazienti e delle loro relazioni tra di loro e con gli operatori ma soprattutto grazie all'attenzione speciale che noi dedicavamo all'auto osservazione dell'osservatore ci siamo resi conto che ciò che prova l'osservatore e ciò che avviene dentro di lui molto di più di ciò che vede dà informazioni importanti sulla natura delle difficoltà dell'operatore a contatto col paziente e sui vari modi che gli utilizza per sostenere la sua presenza o per sottrarsene o per mediarne l'esposizione questo tipo di informazioni aveva una ricaduta importante poi sulla formazione degli operatori delle strutture e anche degli operatori del CIM abbiamo lavorato molto all'osservazione diretta c'è stato un seminario continuativo condotto da Franco dall'80 al 2000 al quale anche io partecipavo che è culminato poi nel libro osservare e comprendere del 2002 si attingeva inoltre all'esperienza degli psicanalisti che soprattutto all'estero si dedicavano alla terapia delle psicosi sia in età evolutiva che adulta fuori o dentro alle istituzioni psichiatriche penso a Meltzer che allora frequentava l'Italia e più volte è venuto a Perugia è del 78 il suo primo seminario sulle psicosi e dell'80 quello sull'autismo primo che ha fatto sull'autismo a Perugia penso anche a Rosenfeld, anzi forse soprattutto a Rosenfeld e alla partecipazione di alcuni di noi ai suoi seminari romani negli anni 80 e poi alla lettura e allo studio del suo ultimo libro, quello uscito postumo nell'87 in Pass and Interpretation e poi penso anche ai francesi Racamier, Sassolat, il Tresieme arrondissement che era uno dei primi esempi di psichiatria di comunità che siamo andati a visitare a Parigi Cesnut Lodge con la Form Reichman, Sils questi erano i nostri principali punti di riferimento cercavamo di non farci sfuggire anche appuntamenti internazionali importanti mi viene in mente in particolare il colloquio internazionale sul trattamento a lungo corso degli stati psicotici organizzato a Parigi nel novembre 72 sempre dal Tresieme arrondissement in cui c'erano tutti da Pomella, Green, Racamier, Pau, Kernberg, Sils, Rosenfeld, Siegel per non parlare che dei più noti Rosenfeld ha fatto una delle relazioni principali e in questo evento noi per la prima volta assistevamo alla celebrazione ufficiale del matrimonio tra psicoanalisi e psichiatria dopo tutte le esperienze e decisioni che avevamo fatto fino allora grazie grazie